Concerto Fedez e Jax 2022 Duomo Milano, quante puntate sono? Love Me, scaletta, cantanti, ospiti, orari, date, quando inizia, dove vederlo Fedez e Jax, stasera martedì 28 giugno 2022, faranno il loro ritorno sul palco in piazza Duomo a Milano, durante il Love Me, un incredibile concerto evento a scopo benefico, Scopriamo quante puntate sono previste in tv e la scaletta con gli ospiti e i cantanti che si alterneranno durante la serata Leggi anche, Battiti Live 2022, quando vai in onda su Italia o no? Date, puntate, dove vederlo in tv, cantanti, orari, concerto Fedez e Jax, quando vai in onda? Fedez e Jax sono pronti per il grande ritorno sul palco e per farlo hanno scelto il Duomo di Milano come location, ma quando inizia l'evento Love Me? L'appuntamento è previsto per il tardo pomeriggio di martedì 28 giugno e sarà totalmente gratuito A che ora inizia? Orari Love Me, il concerto che vede protagonisti Fedez e Jax, a diversi orari che riguardano la messa in onda dell'evento in tv Ma andiamo con ordine e facciamo chiarezza in merito? Il concerto in piazza Duomo avrà inizio alle 18, a quell'ora sarà possibile seguirlo solo in streaming, leggi sotto per scoprire dove gratuitamente Dalle 19, invece, l'evento verrà trasmesso in diretta in tv, leggi sotto per scoprire il canale Fedez e Jax concerto 2022 a Milano, dove vederlo in streaming? L'appuntamento con Love Me in diretta streaming, a partire dalle 18, sarà su Mediaset Infinity Per l'occasione la visione dell'evento sarà completamente gratuita sulla piattaforma Fedez e Jax concerto 2022, dove vederlo in tv? Canale l'evento organizzato da Fedez e il ritrovato amico Jax si terrà, come già detto, in piazza Duomo a Milano e prevede una carrellata di canzoni storiche del duo e moltissimi ospiti molto amati dal pubblico Ma dove sarà possibile seguire il concerto in tv? L'appuntamento è su Italia 1 Love Me, concerto Fedez e Jax, quante puntate sono? Il concerto benefico Love Me non avrà, per il momento, più di una puntata L'appuntamento su Italia 1, quindi, sarà esclusivamente stasera martedì 28 giugno 2022 Scaletta cantanti Fedez e Jax non saranno gli unici artisti ad esibirsi sul palco del Love Me Sono in tanti, infatti, gli artisti che hanno risposto alla chiamata del duo e che si esibiranno gratis durante il concerto Di seguito la lista completa in ordine di esibizione Caneda My Drama Frada Cara Paolo Beba Rosa Chemical Rose Villan Miles Mara Satte Nitro Ariete Mischita Lazzad Argent Amico Rove Pachi Shiva Galita Nanai Tè Due amici di TOG, a cosa serviranno i soldi racconti? Numero donazioni Il concerto di Fedez e Jax nasce come evento benefico I fondi raccolti grazie al numero solidale 45.595 saranno donati dalla Fondazione Fedez e PSA TOG, on-lust centro di eccellenza nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse I fondi raccolti saranno utilizzati per la costruzione del nuovo centro TOG Carlo De Benedetti che sorgerà a Milano Già dal 5 giugno è stato messo a disposizione un numero verde solidale, il 45.595, per chi sarà presente o chi la seguirà in tv o comunque vorrà contribuire donando 2 euro E voi seguirete l'evento? Restate aggiornati anche con la pagina Instagram di Per Scoprire in anteprima tutte le news sul concerto di Fedez e Jax a Milano martedì 28 giugno 2022, quando inizia, l'orario, dove vederlo in tv, quante puntate sono previste, la scaletta degli ospiti e dei cantanti sul palco e non solo